Enrico Lupi, quali sono le prossime sfide delle città dell'olio? Direi il riconoscimento giuridico, il riconoscimento legislativo, il ruolo dell'Italia sulla dieta mediterranea e il paesaggio rurale perché come è stato detto stamattina non si vive solo dalla produzione come fonte di reddito, va riconosciuto il ruolo degli agricoltori per il mantenimento del territorio. Quindi valore paesistico ambientale e direi di quello che è la bellezza del nostro territorio con gli uliveti, le colline, le pianure, insomma questo è uno dei valori fondamentali. Venendo incontro alle richieste anche di alcuni degli ospiti di oggi, un senatore, Panizza mi riferisco in particolare, anche il viceministro ha sottolineato l'importanza di far conciliare le istanze particolari con l'esigenza nazionale. Come si può fare Lupi da suo punto di vista? Noi lo stiamo facendo perché siamo 337 soci, quindi un numero considerevole, rappresentiamo tutta l'Italia, territorio per territorio, ma direi che mettiamo a sistema le istanze e cerchiamo di ennucleare i valori positivi e collante della nostra azione rispetto alle particolarità. Diversità e ricchezza, l'importante è che vi sia una regia generale e un bene comune. Enrico Lupi, ma il viceministro ha detto una cosa molto interessante, le etichette ci sono, però non tutti le sanno leggere o sanno come leggerle. Ecco, da questo punto di vista il consumatore di oggi, che consumatore è? Ma guardi, noi portiamo avanti una battaglia da tempi, un convincimento molto forte. Io dico, valgono leggi e norme regolamenti, però se il consumatore non è acculturato, incuriosito, interessato, stimolato, non si può mettere un carabiniere a fianco di ogni possibile ladro. Noi cittadini d'olio portiamo avanti questa battaglia già per i bambini in età scolare con bimboi, scuola primaria e poi attraverso tutte le azioni di penetrazione culturale vogliamo che i consumatori sappiano poter scegliere. Ultima cosa, Enrico Lupi, so che l'attende il viceministro, chiudiamo dicendo che esiste ancora effettivamente un pericolo esterno per il nostro olio, come facciamo a difenderci? Il vostro lavoro è importantissimo, lo sappiamo, vi seguiamo da tempo, però guardando le frontiere esterne che premono sul nostro olio e lo mettono un po' a rischio, come possiamo fare? Quali indicazioni possiamo dare? Noi diciamo ai consumatori non siate attratti dal fattore prezzo come elemento determinante di scelta, cercate prodotti di qualità dei territori dove vivete e dove sono i luoghi di produzione. Mi sembra di chiudere in bellezza, diamo ancora uno sguardo a questo bello stivale, veramente l'ultimissima cosa che le chiedo, abbiamo parlato di identità con il territorio ma anche le risorse umane sono importantissime, cioè coloro i quali lavorano nel mondo dell'olio. Noi abbiamo inventato prima il miglior oliveto per glorificare e riconoscere il lavoro agli olivicoltori, di fatti noi parliamo di tracciabilità e di territorio perché devono essere gli olivi e le olive coltivate da quegli olivicoltori e non trasmigrate da altri lini. Bravissimo, molto chiaro, grazie per te. Bravissimo, grazie per te. Bravissimo, grazie per te.